Monkey. Vediamo un po' se riuscite a trovare la differenza. Con la forza del pensiero ruota i tubi in modo che tutte le estremità siano chiuse. Memorizza l'ordine delle immagini e poi riordinale. Musica 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 Memorizza i quadri e poi indovina quale stato sostituito. Musica 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 Grazie a tutti. Chi guida dietro il volante? Quale dei due marziani è più ricco? Chi guida dietro il volante? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.